Dai, sbrigati che ci sono 30 ore di intercettazione da sbobinare. Così puoi usare il tuo decoupage. Deco d'age. Dove vai? Ancora non siamo usciti, sei già geloso? Lineo? Ciao, Blanca. Sei ancora un ostagista? Non avere paura. Puoi anche usare altro per sentire quello che hai attorno. I suoni, i profumi, la differenza la fai tu. Ci vediamo domani, Blanca. Dico ci vediamo così per dire. Sarà un piacere, dico piacere così, per dire.